Spazio 3 soffia su 50 candeline ma sono molti di più i risultati, i successi portati avanti in questi anni. Ti ringrazio, i risultati, i successi, ma soprattutto mezzo secolo non è un attraguardo da tutti. Per una associazione culturale che comunque è stata protagonista dal 68 ad oggi della vicenda culturale e artistica di questa città e in Abruzzo e con i suoi spettacoli per lo meno nel periodo che va dagli anni 70 agli anni 90, certamente ha girato non solo la nostra regione ma anche il centro Italia discutendo successi di stampa e quant'altro. Spazio 3 poi è anche Maggio Fest che è una rassegna longeva anch'essa, che ha coperto un gran vuoto quando è nata culturale e soprattutto progettuale in città e con Scena l'autunno che sta correndo di cui avremo anche un altro appuntamento e di cui questo cinquantenario in qualche modo è il corollario. Siamo partiti come teatro sperimentale Teramo nel 68 come giovani che avevano voglia di fare qualcosa rompendo gli schemi tradizionali, molto con la politica soprattutto, partendo con spettacoli di montaggio, spettacoli di invenzione assoluta per poi trasformarci in teatro come? con un punto interrogativo che si è perso nel tempo. Lì nella stagione teatrale di sperimentazione ci ha visti i protagonisti in dei festival maggiori italiani. A un certo punto le cose sono trasformate anch'esse e siamo diventati Spazio 3, quindi la scuola di teatro, quindi il Maggio Fest, la rassegna Scena l'autunno in autunno e la scuola di teatro naturalmente che è stata per noi un po' la radicalizzazione nello spazio che abbiamo in Via Cona della nostra avventura e ha visto centinaia, ma che centinaia? Forse migliaia di giovani, tra l'altro molti che sono ormai degli straordinari professionisti dello spettacolo. E poi sabato 15 dicembre alle 21 al Teatro Comunale la serata di gala. Ma invito i cittadini che vedono questa intervista, tutta la città, comunque a intervenire perché è un ingresso gratuito, è una serata di gala in cui verremo ricordati, con filmati i nostri momenti di lavoro, anche i momenti di spettacolo e i protagonisti che abbiamo ospitato, ma ci saranno degli ospiti, chiaramente non tutti, solo quelli che sono potuti venire in quanto non erano occupati in altre attività professionali e quindi ci saranno letture sul palco di poesie, di brani di prosa, ma soprattutto di teatro e musica perché abbiamo molti amici che hanno lavorato con noi, da Alba Riccioni, anche a Magda White, da Maria Inversi che torna da Roma ad altri, a Benedetto Marcello, che si esibiranno per affetto con Spazio 3. Grazie.